L'Isab for Climate Justice è una rete di movimenti che è comitati e altre realtà locali nata ormai quasi un anno fa al Venice Climate Meeting, durante il Venice Climate Camp a Marghera. Quindi da cosa è nata la necessità di creare questa rete? Cos'è che accomuna tutte queste varie realtà locali, questi movimenti che si sono messi insieme? Allora intanto grazie mille per questo invito e grazie a tutte e tutti e tutto per l'organizzazione di questo festival. Grazie al Centro Sociale Bruno per lo sforzo di creare questo spazio di discussione, dibattito e socialità. Allora l'esperienza di Rise Up for Climate Justice nasce da un'esigenza molto chiara. Alcuni di noi negli ultimi anni, a partire dal 2015 circa, si sono iniziati a porre il problema di quello che stava succedendo e sta succedendo con i cambiamenti climatici. E quella che si è andata sempre in maniera più drammatica materializzando nelle nostre vite come la crisi climatica. E attraversando esperienze europee come quella di Andeghelende abbiamo appunto potuto vivere modalità di attivismo, di attivismo climatico per noi molto interessanti. E gli sforzi di cercare di incontrarsi, discutere e capire come riuscire a discutere, a parlare e porre il problema della crisi climatica, e porre il problema di quella che è la giustizia climatica in Italia è emarsa come un'esigenza molto forte. Quindi direi che l'esigenza, il bisogno, la spinta da cui nascere Isapro Crime Justice è quello di creare uno spazio di discussione e di azione che abbia come focus, come lente di analisi, proprio la questione della giustizia climatica. Intesa non in un senso strettamente ambientale, ma ovviamente in un senso anche sociale, di giustizia sociale. Come abbiamo avuto modo di ribadire molte volte, magari durante questa discussione andremo anche un po' in più in profondità ad approfondire per esempio sulle tematiche di neocolonialismo, di estrattivismo, che vengono portate avanti con questo modello di sviluppo. Grazie. Invece il coordinamento NO31 raccoglie realtà principalmente, locali qui del Trentino e agisce sul territorio da diversi anni in contrapposizione, in opposizione alla realizzazione e al prolungamento dell'autostrada valdastico. Come agisce appunto il coordinamento nel territorio, un po' che tipo di realtà ne fanno parte? Grazie anche da parte mia per questo spazio e complimenti per essere riusciti a realizzare sempre questo incredibile momento, in particolare in quest'anno particolarmente complicato. Il coordinamento NO31 appunto raduna sotto il suo cappello diverse associazioni e movimenti che sono animati dallo comune scopo di contrastare un'opera molto specifica oggettivamente, cioè appunto il prolungamento a nord di una grande mala opera di cui si sente parlare ormai da 40 anni a questa parte, quindi veramente un peso politico, economico, ambientale che il Trentino e il Veneto si portano dietro come fardello da veramente un sacco di tempo. Quindi ricordo l'assemblea più o meno costitutiva di due anni e mezzo fa e si sono appunto radunate una trentina di associazioni, da quelle più diciamo di stampo nazionale come WWF, LIPO e tradizionali, fino ai Fridays for Future che sono entrati in corsa e molto meritevolmente anche aiutandoci a organizzare dei momenti di protesta che da soli non saremmo stati oggettivamente capaci di immaginare. Questo perché? Perché il coordinamento in un certo modo si muove su un ambito abbastanza tecnico, cioè la nostra opposizione nasce da realizzare come le potenzialità di questo territorio, comprese appunto quelle tecniche economiche di sogni da realizzare vengono canalizzate su un'opera che non ha mai avuto nessun senso e in questo momento, come diceva prima benissimo Andrea, ne hanno ancora meno, cioè siamo in emergenza climatica e dobbiamo fare delle cose che l'umanità non è mai riuscita a fare prima d'ora, c'è un cambio radicale del nostro sistema economico globale, del modo in cui ci rapportiamo ai territori e all'ambiente e invece no, ci mettiamo a cincischiare di prolungamenti di autostrade che fa vecchio solo a sentirlo e poi se uno guarda i dati fa orrore a capire che cosa causerebbe. Quindi è un po' questo quello che anima realtà diverse per dire, per fare forse un paragone significativo, coesistono all'interno del coordinamento WF e l'associazione cacciatori di Terragnolo, questo appunto nel riconoscere che su quella lotta specifica c'è una trasversalità all'interno della quale molti si riconoscono. Invece tornando appunto a parlare di Rise Up, questa rete, questo insieme di movimenti opera in modo diverso rispetto al coordinamento, un esempio è l'azione di lancio che è stata quella del Venice Climate Meeting, il sanzionamento della cosiddetta bioraffineria di Eni a Porto Marghera. Questo tipo di pratiche comunque comune a Rise Up, c'è qualche esempio? Qual è il motivo per cui si è scelto di portare avanti queste pratiche così radicali? Allora come hai stato detto molto bene da Aaron giusto adesso, ci troviamo di fronte a una situazione e una condizione in cui il dato di urgenza, ma soprattutto il dato di radicalità di quello che ci viene riportato dai vari report dell'IPCC, dai vari studi scientifici, comportano un elemento oltre che tecnico proprio estremamente radicale, un elemento che è il fatto di questa emergenza, di questa crisi, della necessità di intervenire in maniera radicale, con un cambio radicale del sistema produttivo e di consumo, perché il tempo sta per scadere. Noi non vogliamo creare una narrazione del conto alla rovescia, perché questo implicherebbe il fatto che ci sia un'ora X dell'emergenza climatica in cui succede come nei film apocalittici, il grande evento, il big bang dell'emergenza climatica. L'emergenza climatica è qui adesso, l'abbiamo vista quest'estate, con veramente i fenomeni atmosferici estremi, però quello che sta succedendo è che la frequenza di questi fenomeni atmosferici sta aumentando sempre di più, che la situazione si sta radicalizzando giorno dopo giorno, quindi le nostre pratiche, noi ci siamo posti il problema che il nostro discorso deve essere radicale nel fatto di chiedere quello che è necessario, ovvero un cambio radicale, un cambio rivoluzionario del come concepiamo appunto il nostro stare sul pianeta, come concepiamo la gestione dei territori e come produciamo e come consumiamo. E quindi per fare questo, le pratiche che cerchiamo di utilizzare sono quelle che portano a porsi degli obiettivi. Io prima parlavo di Ende Gelende. Ende Gelende ha iniziato circa otto anni fa nella miniera di Ambach, nella zona della Germania tra Bonn e Colonia. Ed erano 150 persone che hanno deciso di andare a cercare di bloccare una delle miniere, la miniera più grande d'Europa. Immaginate una miniera che, non vorrei sbagliarmi, ma credo che faccia 16 chilometri quadrati di superficie copra. Cioè è una città, un buco che è grande come una piccola città in cui viene estratto carbone nel cuore dell'Europa, nel 2020, in cui si parla di Green New Deal, in cui si parla di Ministero della Transizione Ecologica e in cui Eni va nelle scuole a insegnare la sostenibilità. In questa situazione c'è una miniera in Germania da cui si continua a estrarre per colpa della quale vengono scacciati, mandati via gli abitanti dei piccoli villaggi vicini che hanno iniziato anche loro a lottare e questo succede a fianco a questa narrazione Green. Evidentemente le persone che si sono informate su questi avvenimenti hanno deciso che non era più sufficiente andare genericamente in piazza o mandare delle lettere o fare un ricorso al TAR piuttosto che altre forme. Non bastava solo quello. E allora sono andati a bloccare la ferrovia che trasporta carbone nella miniera di Ambach e ci sono continuati ad andare organizzando in maniera pubblica, dicendo pubblicamente quello che volevano fare e cercando di essere più inclusivi possibili con delle assemblee in cui mettersi d'accordo su cosa fare. Hanno continuato a farlo e sono arrivati dopo 5-6 anni a essere 6.000 persone che invadevano quella miniera da punti differenti bloccando l'intera produzione per 24 ore, per 48 ore sempre di più creando un effetto di marea e mostrando che è possibile riuscire a essere come dice un vecchio slogan quel granello di sabbia dentro gli ingranaggi di un sistema in questo caso negli ingranaggi di quegli scavatori enormi grandi come palazzi. Fare questo, secondo noi, ha un fortissimo portato simbolico e anche di empowerment, di forza. Perché farlo in maniera chiara, aperta, farlo in una maniera in cui tu dimostri che è possibile andare a colpire quei centri nevralgici che sono quei centri che fisicamente inquinano il territorio, che fisicamente attaccano la nostra vita. Esempi può essere la Miteni con i FAS, appunto l'ENI con la bioraffineria e questa cosa qua è secondo noi necessaria perché è necessario riuscire ad attivare quante più persone possibili ed è necessario iniziare a indicare in maniera forte quelli che sono i responsabili perché dall'altra parte noi stiamo assistendo come dicevo prima mi scuso per la lunghezza noi stiamo assistendo a una retorica di greenwashing una retorica del pulirsi la faccia di verde che è di un'aggressività incredibile io sono di Treviso non so se qua è successo ma io a un certo punto un anno fa o due anni fa camminando per strada mi sono trovato con degli stencil dell'ENI su quanto verde fosse l'ENI e su come Chiara scuola imparerà la sostenibilità grazie a l'ENI cioè è stato permesso a una multinazionale che è stato sotto processo per una tangente da un miliardo e cento milioni di dollari in Nigeria è stato permesso tranquillamente di andare a pezzare per usare un termine un po' giovanile la città le strade rivendicandosi il fatto di essere verde e di entrare dentro le scuole e insegnare come si fa la sostenibilità ma la sostenibilità di cosa? di come si fa a dare tangenti a mezzo stato nigeriano di come si fa a introdursi dentro guerre per le risorse e garantirsi i pozzi di petrolio piuttosto che gasdotti nelle varie aree di interesse e quindi di fronte all'aggressività di questo tipo di attacco noi pensiamo che sia necessario avere una delle pratiche avere un discorso che sia radicale che vada in direzione opposta e contraria anche rispetto alla coppia che ci sarà a Glasgow è passato assolutamente in sordina è come se fosse nulla il fatto che in una situazione non solo pandemica ma sindemica in cui è stato nel tempo dimostrato come ci siano collegamenti tra la crisi climatica la deforestazione che avviene gli allevamenti intensivi e questa condizione di pandemia e questo virus bene l'unico spazio di discussione internazionale con legittimità tra mille virgolette che è la coppia salta salta e si fa quest'anno cioè al posto di mettere al primo piano la discussione su come risolvere il problema climatico lo fanno saltare e ne riparleremo l'anno prossimo questa cosa qua per noi è inaccettabile dopo magari punto è per questo che vi inviteremo al climate camp a Milano dove avrà la copp dei giovani e la pre-cop che è un evento di creazione di agenda insomma di discussione sulle tematiche da discutere a Glasgow ma quello per noi comunque è un orizzonte da assolutamente attenzionare e in cui fare presente la nostra posizione intanto tornando un po' a parlare del nostro territorio di recente la giunta leghista Fugatti è tornata alla carica con il progetto della 31 e quindi volevo chiedere a Daron come si pone il coordinamento rispetto a questa insistenza quali sono cosa cosa si farà andando avanti per appunto contrastare questa grande opera grazie per la domanda anche se un pochino mi dispiace dopo tutti gli stimoli che sono stati dati tornare quasi nella semplicità del contesto locale che tuttavia è dimostrazione esplicita di una dinamica globale ovvero si cerca di giustificare dei progetti che non hanno alcuna base alcun senso di esistere su appunto basandosi su dei piedi d'argilla i dati che sono presentati le motivazioni sono estremamente fumose e proprio una delle grandi difficoltà devo dire che sono emerse in maniera particolarmente evidente in questi mesi per il coordinamento è stata visto che il lavoro che è stato fatto fino adesso è sulla base tecnica e di contrasto punto per punto a quello che veniva detto sulle poche informazioni che sono trappelate adesso ci troviamo in difficoltà appunto a dare dei segnali netti perché non c'è nulla ovviamente ovvero l'attuale giunta trentina leghista sta difendendo un progetto senza alcuna base territoriale intanto per cominciare perché non si sa esattamente dove dovrebbe passare senza alcun esplicito accordo con le regioni confinanti senza delle simulazioni sul traffico che eventualmente sposterebbe né ovviamente quelle più fondamentali dal nostro punto di vista ovvero della CO2 che quindi dell'impatto climatico che questa cosa avrebbe e quindi tutto questo viene fatto dando per assodato che porterà benessere eventualmente diffuso che ovviamente è un preconcetto che non viene discusso che non viene presentato ma appunto è un assunto che è appunto particolarmente assurdo perché contemporaneamente il messaggio nemmeno troppo mascherato è che l'opera serva per migliorare delle economie estremamente localizzate come quella del polo industriale di Rovereto quindi capite che i ragionamenti che sembra vengano fatti in questo momento sono totalmente schizofrenici eppure negli anni scorsi lo erano stati quindi nell'oggettiva difficoltà di capire che cosa sta succedendo quello che stiamo facendo in questo momento è sostanzialmente quello che abbiamo sempre fatto ovvero quello di chiedere al Trentino un'attivazione generalizzata in particolare dai comuni e la nostra convinzione infatti è che indipendentemente dal percorso quest'opera ci riguarda tutti proprio per l'emergenza drammatica che stiamo vivendo il Trentino non è un paesino isolato su Marte ma è parte di un ecosistema globale che è totalmente compromesso dall'azione dell'uomo la valdastico sarebbe un contributo importante ad accelerare verso il disastro se è possibile ancora accelerare perché siamo già belli veloci verso certi tipping point molto preoccupanti e quindi appunto un'attivazione generalizzata indipendentemente dal tracciato quindi cercando di rovesciare certe logiche estremamente localistiche con le quali appunto negli anni scorsi ci siamo abbastanza scontrati e sì più o meno questo beh comunque non non sono d'accordo sul fatto che non ti dispiace tornare indietro su una cosa locale comunque fondamentale secondo me come si parla di miniere di carbone in Germania anche la la 31 sarebbe una grande opera che andrebbe a devastare completamente tutto il territorio il territorio del del trentino a sfrattare centinaia di persone persone e animali non umani che che vivono nel territorio comunque diciamo a compromettere radicalmente delle possibilità di non sviluppo perché sviluppo è veramente un brutto termine di immaginare futuri per chi i territori li abita cioè è una violenza che viene imposta letteralmente imposta perché tra le altre cose che sicuramente mi dimenticherò di dire non sarà l'ultima questa opera viene imposta ai territori non viene discussa non viene immaginata non viene presentata nelle sue eventuali potenzialità ammesso ne possa avere e dubitiamo fortemente e quindi appunto si tratta proprio di una violenza che limita definitivamente le possibilità per certi territori di immaginare un futuro indipendente da quello che decide la Giunta è un'ultima che è un'ultima che è un'ultima Grazie a tutti